Sì, credo che possiamo cominciare. Buonasera, benvenuti a tutti, numerosi, a quanto vedo. Questo libro, io ne farò una breve presentazione, questo libro tocca tre temi, tre tematiche, tre ambiti diversi che raramente gli storici collegano, anche se li frequentano. Quello della dimensione urbanistica, della fondazione di una città, anche se Muroni spiega che non è una fondazione nel senso proprio, perché si tratta di un forte sviluppo urbanistico di una piccola cittadina esistente, ma insomma lo spirito è quello. Quello della politica del corporativismo degli anni 30, che è un grande tema storico, del tentativo di elaborare delle politiche sociali ed economiche originali, che è un tema che non soltanto in Italia, in tutta Europa e fuori d'Europa, ha avuto grande risalto. Il corporativismo fascista attraeva molto, ad esempio, gli americani, proprio per il tentativo di superare questa ideologia fascista, del resto il conflitto attraverso altre istituzioni e così via. E terzo, quello della modernizzazione, possiamo dire, cioè della trasformazione di una società, di una civiltà contadina, molto povera, molto periferica, che nel giro di pochi anni ha conosciuto la modernità, ha conosciuto tanti aspetti della mobilitazione sociale ed economica del moderno. Quindi temi grossi che si incrociano, temi importanti, come dicevo, della riflessione storica. Ecco, diciamo subito che l'originalità di questo libro, che ha una bellissima copertina, tra l'altro, e consiste proprio nella mancanza di riferimento al retroterra storiografico che c'è di fronte a questi temi. Una certa freschezza, una certa... Muroni è entrato direttamente a gamba tesa, in terreno largamente coltivato, e ignorando un po' ciò che è stato fatto per decenni, e questo si sente, la mia è una lettura parziale, perché faccio lo storico di professione, si sente soprattutto laddove Muroni tenta dei giudizi storiografici, che sono la parte più caduca e del resto la fa con molta misura, non è questo il cuore del libro. lo fa non trascurando il suo entusiasmo, che gli fa credere tutto eccezionale, unico, di valore mondiale. Quello che gli fa dire che Tresigallo fu un centro artistico di notevole importanza nazionale, e probabilmente anche europea, insomma, è un po' caricata, che è un primo esempio di globalizzazione, oggi si parla molto, qui la globalizzazione proprio, non c'entra proprio, e così via. O che solo a Tresigallo si assiste a una rivoluzione da tutti i punti di vista. Ecco, come dire, proprio il carattere del resto, del tutto incidentale, di questi giudizi, fa sì che sia utile lasciarli cadere, e entrare direttamente quindi nell'argomento, e gli autorevoli presentatori lo faranno con maggiore capacità delle mie. È interessante notare che Tresigallo, progettata in maniera amatoriale, qui si sentono molto proprio, insomma, l'arrivo di Rossoni, che riunisce dei tecnici, che riunisce dei geometri, dei personale, i costruttori, si mette lì, disegna, in modo molto improvvisato e amatoriale, diciamo spontaneo, dice, sono in progetto a tavolino, ci sono degli episodi, però presenta degli echi nell'architettura, nell'urbanistica, degli echi razionalisti, di Pagano, di Libera, cioè, immediatamente è datato questo scenario sia pure così improvvisato. Però, ciò che è interessante è che questi echi dell'urbanistica e dell'architettura sono in realtà rappresentati, ripeto, da tecnici. Poi ci sono anche, naturalmente, architetti, artisti, però, insomma, sono rappresentati dai facitori sul posto dei manufatti. Muroni fa appena un cenno, noi sentiremo qui un intervento in questo senso, fa appena un cenno alla struttura urbanistica di tipo assiale, cioè, come, devo dire, il fatto che non ci sia una planimetria in tutto il libro e tante foto che ci sono che non c'è una cartina, però lo si può andare a vedere in Google Maps e quello che è oggi, si vedono le strade, però, ci devo essere qui, insomma, per capire un pochino come è stato inventato, però, un cenno ad una, alla struttura, c'è una direzione est-overse, una direzione nord-sud che da Viale Roma arriva diritto al cimitero utilizzando uno schema urbanistico basato sull'assialità. All'estremità di quest'ultima via erano quindi rappresentati simbolicamente il lavoro, la fabbrica, il lavoro eterno, lui dice, il cimitero, mentre agli estremi di Viale Roma ma vi erano la chiesa e la casa e l'opera nazionale valiglia. Questo ripete appena un cenno a pagina 224, di fatto questo lo trovo un elemento di grandissimo interesse che richiama non il corporativismo e non il fascismo, ma delle tradizioni di struttura urbanistica precedenti in cui i riferimenti al lavoro e alla chiesa, al potere, ai diversi poteri mondano e ultramondano sono molto presenti come è molto presente anche la vicinanza o la fusione di modernità industriale con la campagna, con l'agricoltura. Il pensiero va subito all'aschio di Alessandro Rossi, senatore cattolico di fine 800, sottolineo cattolico, non fascista, siamo in 1870, siamo in 1880, ma anche al villaggio Loiman a Torino, cioè ci sono tutta una serie di esperienze in Italia e in Europa di ideazioni di contesti urbano-rurali, di contesti urbani in una dimensione rurale in cui l'obiettivo è proprio quello in qualche modo di sposare agricoltura e industria, come del resto in molte costruzioni inglesi, c'è il garden, c'è l'orto, diremmo noi, più che il giardino, che è legato e che è dietro le case operali. Perché dico questo? Perché non è sempre chiaro, è un altro aspetto che forse qui il professor parlato ci dirà meglio, che cosa sia questo corporativismo. In realtà è un tentativo originale col quale sappiamo che il fascismo nel senso di Benito Mussolini ha rapporti difficili, emergono da questo libro, insomma il corporativismo non è l'ideologia mussoliniana piena, insomma è una cosa con la quale il fascismo ha avuto rapporti complicati, quantomeno. E cosa sia in realtà questo corporativismo proprio in una dimensione locale, degli insediamenti locali non è del tutto chiaro. Del resto Russoni emerge a questo libro che si sentiva potenzialmente accusato di fare interessi al suo proprio borgo nativo e quindi tendeva sempre a svaluatare questo aspetto personale dice io non sto facendo una cosa per casa mia ho un progetto più grande in testa quindi c'è sempre il rapporto la vicinanza con i contesti sociali d'origine il territorio oggi si dice e delle idee politiche flaute è un elemento molto interessante assai complesso parlavo di freschezza in questo testo che in gran parte se andassimo a vedere è fatto di testimonianze se uno lo apre ad apertura di libro sono intere pagine di testimonianze sono testimonianze naturalmente di persone anziane sono persone nate negli anni 20 sono persone molto anziane che hanno vissuto che ricordano Rossoni che ricordano quell'epoca e devo dire si può anche ipotizzare che alcune di queste persone non ci siano più oggi per questo dispiace ripeto qui c'è un po' una deformazione professionale che queste testimonianze non siano registrate con l'attenzione che l'uso delle fonti orali oggi consente e richiede sono trascritte dall'autore non sappiamo come insomma in una lingua italiana che non so se è esattamente quella dei testimoni ma insomma ci sono e sono la parte più interessante divertente gustosa letteraria anche di questo testo che si legge piacevolmente ovviamente sono quasi tutte elogiative o nostalgiche Muroni dice no ma c'è qualcuno anche che era critico perché gli è stato fatto un torto o pensava che gli fosse stato fatto un torto però ovviamente è un'epoca d'oro per questi anziani abitanti che hanno direttamente una propria famiglia dei ricordi di una situazione di miseria di povertà di un tempo e sono stati travolti in senso positivo da questa ondata da questa avvento del moderno del moderno quindi ne hanno un ricordo molto positivo molto elogiativo erano i tempi d'oro devo dire leggendo queste esternanze non i tempi d'oro di particolare fede fascista anche qui è Rossoni che è un gran duomo e le cose che porta sono importanti ha portato la luce elettrica ha portato il bagno in casa non so se avere il bagno in casa è una cosa fascista è una cosa fascista no è una cosa di grande rilievo quindi ci restituiscono un mondo di ieri così lontano per noi e così vicino il tempo ci sono delle persone ripeto viventi che hanno ricordo di questa è una veramente è un'epoca unica nella storia in cui nell'arco di due generazioni il mondo si è radicalmente cambiato questo non è non era successo a questi rispetto ai loro nonni la vita dei nonni in questione era più o meno la loro la vita ai nipoti è impensabile e non pensata quindi è una cosa di grande interesse ecco queste sono le tematiche il mio compito è soltanto di introdurre un discorso sono i temi che sono presenti in questo libro io non ho citato la cosa fondamentale cioè la personalità di cui sono gli altri ne parleranno dicevamo prima che si è parlato manca una biografia di questo come manca una biografia di molti esponenti del regime fascista dicevamo poco fa come il regime fascista abbia creato un vuoto archivistico come dire molti archivi dei dirigenti dei interarchi del partito sono rimasti tra l'occhio alla rufera sono comparsi è molto difficile ritrovare le carte ed è anche per questo il tanto che c'è qui è un meritorio però questo ha anche significato che raramente oggi io l'ho fatto per i 40 anni il docente universitario di storia raramente oggi i giovani sono attirati dallo studiare la classe di viviente fascista no l'adesione a personaggi di unità democratica all'antifascismo eccetera è immediata nei giovani è già molto più sofisticato invece un atteggiamento di interesse della generazione precedente quindi lascio da parte il personaggio principale ripeto che è personaggio di grande interesse anche per il motivo che appunto unisce la sua tresigallo con la Roma ministeriale e come dicevo lo fa con un amore per la sua terra nello stesso tempo con piena consapevolezza di un progetto politico nazionale e il dizionario biografico degli italiani che oltre vi leggero di dirige arriverà al prossimo volume alla voce Rossoni e avremo una breve bibliografia di Rossoni però appunto non ce ne sono mai bene in questa breve presentazione ho parlato fin troppo io credo come siamo soliti fare di seguire l'ordine alfabetico non so c'è questa abitudine e quindi direi direttamente la parola al professor Giorgio Muratone bene allora dovendo parlare per primo sono sempre imbarazzatissimo io credo che mi devo attenere sostanzialmente alla mia disciplina che poi è l'architettura in qualche modo quindi lascerò agli altri l'onere di occuparsi del personaggio Rossoni o comunque degli aspetti politici più generali di tutta l'operazione per quanto mi riguarda essendomi occupato da tanto tempo di città nuova io nemmeno di così o comunque di architettura di fondazione negli anni 30 ecco ritengo che questo sia un contributo particolarmente importante al di là delle giustissime osservazioni di chi mi ha preceduto sul piano scientifico metodologico come non condividere certi entusiasmi un po' naif diciamo dell'autore però indubbiamente più forte forse è quello più forte no io posso parlare così più dentro di questo non so dove parlare sentite sì è altri tempi che ero mio qui sono passati un po' di anni ecco quindi mi mi sento di dire che questo è un un piccolo capolavoro anomalo assolutamente non è un libro di storia ecco non vorrei che si preintendesse ma è un omaggio appassionato straordinario di un giovanissimo autore che pure questo non va dimenticato perché il nostro personaggio della serata non c'è neanche trent'anni insomma anzi gli manca parecchio per arrivarsi che ha speso alcuni anni della sua vita per raccontare una storia tutto sommato inedita non che non si conoscesse Tresigallo lo conosciamo tutti quelli che si occupavano di questo ma insomma non era conosciuto fino a questo punto ecco io mi ricordo tanti anni fa in occasione di una mostra per un viaggio in Italia alla triennale che doveva fare la triennale di Milano dedicata agli anni 30 ma andai a Tresigallo a visitarla ma stavo parlando di quasi 40 anni fa era una città praticamente abbandonata ecco rivederla oggi un po' restaurata un po' ridipinta eccetera fa anche una certa tenerezza ecco io con questa tenerezza che guardo a questo volume nel senso che raccoglie anche queste testimonianze che sono assolutamente vere gli mancheranno le virgolette gli mancheranno le date gli mancheranno qualcosa di scientifico ma alla fine poi il sapore sostanziale della cosa resta quello che poi è la sostanza della cosa e il motivo per cui siamo qua e il motivo per cui siamo qua è parlare anche di questa strana avventura di questo personaggio peraltro notissimo di cui è stato ministro è stato una delle grandi autorità dei grandi gerarchi chiamiamoli quindi non è che fosse uno sconosciuto però l'idea che si sia appassionato in maniera così strana diciamo e del tutto anomale e del tutto particolare a una città non essendo in fondo un industriale cioè non era un Agnelli non era un Olivetti che in fondo ha fatto la sua igrea non era Crespi che ha fatto il suo monumento ecco con questo affetto con questo strano rapporto così radicato beh è una cosa che lascia abbastanza interdetti e interessati questa dimensione un po' faraonica se vogliamo pure che ha dato il monumento al centro della città a un certo punto il vero centro della città è quello ahimè è un po' come la piramide di Crespi Radda in qualche modo si rimanda a questo ecco e quindi è la vicenda particolarissima di una piccola città italiana di un piccolo borgo rurale pensiamo che anche oggi credo che abbia la metà degli abitanti di quello che a Roma è un semplice edificio che è Corviale credo che oggi sono 3.000 abitanti ecco esattamente la metà di Corviale praticamente quindi una città noi stiamo parlando di una città che è la metà di un edificio romano di periferia quindi stiamo parlando di una cosa particolare un po' strana un oggetto di culto in qualche modo che è stato riesumato non tanto dalla fenomenologia specifica delle città di fondazione italiana ma da quella che è la piccola e media città italiana cioè quel paese sostanzialmente costruito un paesino direi quasi un paesino per certi versi un paesino costruito con la voglia di costruire una città da un personaggio diciamo probabilmente illetterato sull'argomento come potrebbe essere Rossone ma certo non illetterato sul piano della politica perché evidentemente era poi quello il suo obiettivo che ci lascia come dire una città a sua immagine e somiglianza cioè quella poi di un italiano medio o qualsiasi una città fatta da geometri cioè non c'è un architetto che ha lavorato lì dentro è fatta da geometri da un fabbro da un paio di scultori da un marmista infatti quel sapore un po' un erico che per esempio un foto tutto sommato a quella città rinasce da questo da questo assomigliare un pochino a un giardino pubblico un po' un un cimiterino di periferia per certi versi ecco un pochino ce l'ha questo aspetto senza offesa per nessuno ma insomma ce l'ha questo aspetto e lì troviamo troviamo di convergere però dei personaggi strani prima qualcuno ha parlato prima di me ha parlato della copertina e quindi di questo Bonetti di questo autore di questo straordinario quadro no straordinario no di questo quadro ecco sul giudizio su Bonetti insomma diciamo ti sei un po' allargato ma non è colpa tua tu hai citato giustamente delle persone che hanno fatto di questo illustre sconosciuto praticamente un mito dell'aerofuturismo come si chiese che cosa fosse era un peccione qualsiasi Bonetti ma insomma comunque sia poi però vedremo quanto è stato importante nella storia della cultura italiana e però quello per tornare a un certo punto tu fai un capito in cui parli dei veri autori no cioè gli artisti che sono entrati nella definizione insieme a questo sconosciuto ingegner Frighi veramente mai sentito nominare e un certo geometra che lo ha aiutato che forse si chiama Mariani se non mi sbaglio qualcosa del genere ecco che era il macellaio del paese tanto per darvi il tono diciamo della cultura e diciamo anche immessa in questa operazione e quindi poi quando parli però c'è un certo cecchino guerra marmista ecco cioè questo dà il tono il look la temperatura diciamo un marmista poi casualmente passa Baroni Baroni questo sia un tecnico però viene usato per costruire un capannone praticamente per un'industria ma diciamo non fa parte proprio degli ideatori quelli che danno il tono è un nome importante come dire Pierluigi Nervi a un certo punto ha fatto un capannone lì da quelle parti Baroni che è di quella levatura poi un certo scultore Nelci che conosci solo te praticamente perché credo non lo spazio non lo spazio poi Ugo Tarchi che è sicuramente uno dei peggiori rappresentanti dell'Accademia Italiana ha diretto l'Accademia di Perugia per qualche anno ma era veramente un personaggio di una tristezza lugubre praticamente un po' come così certe cose e poi fortunato lungo scultore dei busti anche questo ma piantela dai ma che bella città ma lasciamo perdere e poi Pietro Porcinaio che ha fatto il giardino di una delle tante videe di una delle poche videe ma quello che mi piace più è questo Uberto Bonetti autore di questa bellissima copertina che vedete ora chi è questo Bonetti questo Bonetti è veramente un illustratore conosciuto cioè è un illustratore di Viereggio che è noto per aver costruito la figura del Burlamacco conoscete il Burlamacco? no è il pupazzo praticamente che sta nel che è il carnevale ma la cosa divertente è che questo personaggio che non so a quale titolo e per quale motivo un giorno ha dipinto delle vedute aereofuturiste di Tresigallo perché questo non si evince diciamo non si è capito qual è stata la committenza di queste quattro tele tu dici probabilmente lo sono gli era chiesto lui l'ha fatta insomma ecco però questo personaggio è la chiave di volta di uno delle grandi gialli dell'architettura italiana degli anni 30 perché è l'autore di fatto del progetto di Villa Malaparte cioè la villa famosa di Villa Malaparte è il più importante edificio quello che è considerato l'edificio più bello della storia dell'architettura del Novecento in tutto il mondo unanimemente attribuito ad Alberto Libera come tutti sappiamo considerato il suo capolavoro di fatto non è affatto firmato da Libera che fu cacciato a un certo punto dal cantiere e fu concluso e i veri progetti furono presentati da questo oscuro Uberto Bonetti perché era un amico d'infanzia di Malaparte e che quindi gli ha messo in pulito praticamente le fantasticherie sue e dei suoi amici di Savini o dei suoi amici colti che evidentemente ecco quindi mi piace questa Italia che parte da l'edificio più sofisticato in assoluto e più conclamato praticamente che tiene dietro tutta la cultura europea di Berklin a Savinio a Malaparte a Giorgio De Chirico naturalmente ecco per arrivare poi a Fresigal ecco questa è seguendo l'Italia ecco questa che io qui lascio insomma poi mi piacerebbe riprendere l'argomento perché è questa Italia fatta di alti e bassi di luoghi comuni e di misteri che mi piacerebbe ancora studiare grazie 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 prego grazie allora già un po' diciamo il discorso è stato anticipato dal professor Romanelli per quanto riguarda la parte storica di questo volume io credo che sicuramente il merito maggiore dell'autore sia stato quello di avere avuto la costanza la capacità di mettere a fuoco in questo contesto il ruolo di Rossoni lo ha detto già prima Romanelli di Rossoni c'è poco in circolazione ci sono dei piccoli dei lavori delle introduzioni dei lavori un po' sommari anche se fatti da autori di notevole peso ma diciamo che Rossoni non è mai stato studiato realmente all'interno del contesto del fascino un po' per i motivi che sono stati già detti io non so se diciamo sono stati se le carte sono scomparse perché sono state travolte dalle vicende della guerra in qualche caso sicuramente sì forse nel caso di Rossoni probabilmente sì anche se credo che le carte abbiano preso una strada diciamo diversa prima della conclusione del conflitto è significativo e lo dicevo prima a professor Romanelli che anche di Razza di Luigi Razza che di Rossoni era grande amico e anzi è stato poi in qualche modo l'allievo di Rossoni che ha preso in mano dopo lo sbloccamento la confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura anche di Razza che è un personaggio importante anche perché è stato ministro dei lavori pubblici dopo essere stato sindacalista non esiste archivio un po' diciamo è sicuramente dipeso dalle vicende la Razza muore anche molto presto muore nel 35 quindi diciamo non ha lasciato probabilmente un archivio non si sa non si sa io ho fatto delle ricerche ma senza esito ma certamente un po' è dipeso anche da quello che è successo nel dopoguerra e mi riferisco in particolare agli archivi dei sindacati fascisti che non erano legati a una persona in particolare ma erano facevano parte della struttura diciamo di amministrativa dello stato fascista e che sono scomparsi subito dopo la guerra alcuni sono stati distrutti altri sono stati nascosti altri sono rimasti nascosti per molti anni e poi sono saltati fuori ma mi riferisco soprattutto e questo è ancora peggio all'archivio del ministero delle corporazioni che invece è scomparso completamente salvo la parte relativa alle vertenze di lavoro perché è servita subito dopo la guerra per mettere in piedi un discorso di concertazione che si riteneva comunque indispensabile quindi il problema delle carte del sindacato fascista dei personaggi degli esponenti del sindacato fascista le carte di Giuseppe Landi che è stato l'ultimo presidente della confederazione lavoratore industria le abbiamo noi in fondazione perché a un certo punto in fondazione spirito perché a un certo punto le ho trovati sul mio cammino ma non è stato facile quindi c'è un problema di carte del periodo fascista che va al di là del fatto che sia passato bene la guerra che questi personaggi siano stati travolti certamente dal conflitto dipende anche dalla gestione di queste carte avvenuta poi nei successivi periodi per questo motivo credo che parlare di Rossoni come ha fatto Muroni sia importante perché noi sappiamo che questo può non essere sicuramente un libro di storia come noi siamo abituati a considerarlo con le note a piedi pagina e con diciamo la acribia come dicevano i nostri maestri necessaria per costruire queste cose però sta di fatto che noi oggi parliamo di Rossoni sta di fatto che questo libro ha comunque suscitato un interesse io ricordo la presentazione che abbiamo fatto a Ferrara con molte persone estremamente interessate e il grosso a mio avviso vantaggio il grosso elemento positivo è che su questa figura si sono negli ultimi anni soprattutto superati certi steccati che erano classici e sono stati classici per molto tempo voglio dire Rossoni era fascista e su questo mi pare che non ci siano proprio dubbi ha svolto una politica sociale qualcuno come Pennacchi potrebbe dire una politica di sinistra come più volte hai detto e questo che una volta sembrava una contraddizione mettere insieme la parola sinistra con la parola fascismo oggi non lo è più e effettivamente questo libro dà conto anche di questo dà conto di una città costruita fatta dai capomastri ma costruita con un criterio politico che era quello di Rossoni io credo che Rossoni sia una delle tre persone che avessero in mente realmente un progetto politico durante il fascismo le altre erano bottai e probabilmente Farinacci non ci ho messo Mussolini tra queste persone perché penso che Mussolini un progetto organico non ce l'avesse Mussolini era un tattico era un grande tattico ed era una persona di grandissima fantasia dal punto di vista politico ma non è mai partito almeno per quello che io sono riuscito a capire e a studiare non è mai partito con un progetto specifico Rossoni sì Rossoni ha un progetto che è quello del suo corporativismo integrale e cioè la costruzione di una società costruita e gestita sulla base delle corporazioni le quali corporazioni avevano secondo la vecchia tradizione sindacale rivoluzionaria il concetto dell'autogoverno e quindi il problema è che lo stato di Rossoni è uno stato leggero è uno stato non particolarmente invasivo ben diverso da quello di Mussolini e questo è uno dei motivi per cui il processo il progetto di Rossoni non passa non passa nel 1923 quando la rossoniana diventa uno dei centri di potere del fascismo più importante cioè la confederazione fascista della confederazione nazionale delle corporazioni fasciste è effettivamente un blocco di potere e Mussolini la guarda con molta perplessità con molta anche perché poi c'è il fascino di Rossoni che è un personaggio che forse è l'unico insieme con Mussolini a riuscire a suscitare un entusiasmo popolare io nei miei studi sul sindacato fascista ho incontrato vecchi sindacalisti che quando si parlava di Rossoni si commuovevano Rossoni riusciva a coinvolgere è uno dei grandi personaggi che diciamo ha coinvolto e questo coinvolgimento certamente a Mussolini non faceva piacere lo sbloccamento del 1928-29 è la risposta non solo di Mussolini ma di Bottai è la risposta di Turati è la risposta della Confindustria al potere che Rossoni aveva messo insieme in un'unica confederazione quella confederazione che secondo Rossoni avrebbe dovuto prendere anche gli industriali doveva essere una confederazione totalmente unitaria il dualismo sindacale doveva scomparire e chiaramente questo fece sì che la confederazione degli industriali immediatamente accettò di mettere la F nel nome fascista pur di salvarsi perché il pericolo era che come era successo per l'agricoltura di essere inglobati dalla rossoniana quindi l'uomo aveva certe idee e queste idee vengono tarpate però il personaggio ha la capacità di resistere in qualche modo e resiste anche perché Mussolini ha questa abitudine che la persona che è stata sconfitta poi lui la ripesca in qualche modo perché c'è sempre questo rapporto che Mussolini ha con lo sconfitto interno non soltanto Rossoni è un caso piuttosto frequente e lo mette a sottosegretario della presidenza del consiglio quanto potesse fare Rossoni come sottosegretario alla presidenza del consiglio in una presidenza del consiglio in cui c'era Mussolini questo lo possiamo anche immaginare cioè quasi niente però intanto non era politicamente morto no poi ci sono stati lui riusciva poi anche il rapporto con Mussolini era tale che riusciva ad avere degli spazi ma è come ministro dell'agricoltura che diventa no l'elemento centrale di un progetto e qui c'è di mezzo il ruralismo che si ritrova nella città di Pintresigallo c'è il progetto dell'evoluzione del concetto di bonifica cioè Rossoni quando Rossoni trova nel suo sottosegretario poi ministro Tassinari il tecnico che gli rappresenta quello che lui ha in mente a mio avviso determina il superamento della logica che era quella di Sertieri cioè la logica di Sertieri è una logica liberista se vogliamo usare questo termine nel quale gli spazi di libertà delle persone dei proprietari terrieri erano ancora abbastanza robusti con Tassinari cambia completamente cioè con Rossoni cambia completamente il discorso e basta vedere quello che succede nel tavoliere quello che succede poi nel latifondo siciliano è cambiata completamente la musica ed è tanto cambiata la musica che come tutti sappiamo quando Segni dovrà fare la riforma agraria va a prendere i tecnici che erano stati di Tassinari di Rossoni perché sono gli unici che sono riusciti a realizzare nonostante la contingenza della guerra perché poi teniamo presente che l'assalto al latifondo pugliese è del 1940 e l'assalto quello siciliano è niente meno che del 43 quindi in 42 43 quindi in zona 40 ma continua per tutto il 43 per tutto il 43 che li sbarcano agli americani e loro stanno ancora riformando esatto quindi è chiaro che in quelle condizioni tra il 40 e il 43 non si può dire che diciamo la preoccupazione preminente di Mussolini fosse quello dell'assalto al latifondo c'è anche quello ma in un contesto ovviamente completamente determinato e sfalsato anche dal conflitto però sta di fatto che segni va a prendersi quelli questo ha anche un significato per un discorso di struttura dello Stato di continuità no? quando si parla di continuità non si parla soltanto di cose teoriche ma si parla anche di cose estremamente estremamente pratiche e poi Tassinari e Rossoni sono quelli che inventano un'agricoltura che non è soltanto più agricola scusate il gioco di parole un po' stupido cioè non è un'agricoltura che si ferma lì è un'agricoltura che lavora strettamente con l'industria quando si fa Tresigallo si fa una città sì certo agricola perché è ficcata nella pianura agricola del Ferrarese ma si fa una città prevedendone uno sviluppo di carattere industriale poi sappiamo che questo sviluppo industriale non c'è stato ma il concetto è questo che mi interessava sottolineare è un concetto molto moderno da questo punto di vista cioè l'agricoltura da sola non può funzionare se non ha uno sbocco di industrializzazione legata ai prodotti dell'agricoltura ma comunque in una chiave di produzione industriale e anche questo è un fenomeno che nella vecchia logica ruralistico mussoliniana è già un passo fuori è un passo fuori questo io credo che diciamo questi elementi possano essere degli elementi importanti io dalle considerazioni o meglio dalle interviste da quello che dice quello che dicono le persone che sono state intervistate vorrei sottolineare solo un passaggio ce ne sono tanti di spunti ma voglio farla anche non troppo lunga quello che è significativo a mio avviso è la consapevolezza di queste persone che stanno passando da un tipo di società a un altro tipo di società e lo stanno facendo in maniera molto repentina ci sono due battute che io avevo sottolineato per noi giovani Rossoni ha fatto un miracolo ha costruito le fabbriche c'era lavoro quasi per tutti per la prima volta i tresigallesi potevano avere dei risparmi videro per la prima volta il benessere per dirti quando i ragazzi di Copparo che era una città venivano al Domustua si pulivano le scarpe questo è un fatto anche piuttosto questo per farti capire quanto fosse bella la sala da ballo quanto fosse elegante il paese con bici piazze e viali è molto ingenuo tutto questo lo sappiamo però è abbastanza significativo la distilleria fu una manna dal cielo per noi perché i tresigallesi finalmente poterono diventare da semplici contadini operai specializzati e con uno stipendio sicuro voi capite che il contadino che è legato alla produzione industriale che quando c'è la grandine come è successo stamattina a Roma può dire addio alla coltivazione beh avere lo stipendio sicuro è un passaggio epocale che per chi ha vissuto questo passaggio è una cosa indimenticabile questo elemento è accompagnato tuttavia da una cornice che queste queste interviste registrano e non so quanto sia soltanto la suggestione di un passato che chiaramente è un passato positivo perché coincide con la propria giovinezza ma c'è il fatto che all'interno di questo percorso c'è l'idea di una comunione fra le persone cioè che c'è l'idea che a un certo punto questo sistema politico e sociale nelle intenzioni possa superare le vecchie barriere le vecchie antinomie del passato resterà soltanto a livello di opzione di illusione probabilmente sì però questo è significativo perché dall'idea che in un progetto sul quale si potrebbe aprire certamente un dibattito molto più lungo del corporativismo l'idea che ci possa essere la prospettiva di un progresso che non sia soltanto di una categoria o di una parte della comunità cittadina questo è un fatto che credo vada ascritto agli elementi positivi che questo libro ha fatto emergere grazie io partirei dalle questioni proprio dagli appunti metodologici aspetti un attimo aspetti mi scalda deve carburare poi poi parto ah no io partirei da allora sì certo certi giudizi che da muroni sono un po' non condivisibili il problema però è capire se sia lecito o meno esprimere gli giudizi fargli i giudizi storici dargli poi i giudizi storici beh questo è un lavoro storiografico le fonti orali come sono state raccolte come non sono state raccolte tutto vero tutto giusto tutto sacrosanto però in realtà è che non ci stanno altre cose su quel periodo cioè c'è un lavoro che in teoria avrebbero dovuto fare gli storici di professione quelli che hanno studiato come si fa ecco tutta la correttezza del metodo tutto rispetto filologico dell'intervista e che però non è stato fatto gli storici di professione non hanno fatto per quanto mi riguarda io questo ragazzo ha 26 anni io mi rivedo nel suo lavoro quando ho cominciato a farlo io 10-15 anni fa 20 anni fa quando ho cominciato a farlo io questo lavoro su tutti i libri si trovava scritto che durante il fascismo erano state fondate 12 città di fondazione in tutta Italia poi io mi sono messo a cercarle poiché volevo raccontare la mia mi sono messo a cercare per capire tutte le altre e forse è il caso di non parlare di città ma parliamo di nuove fondazioni poi ne ho trovati oltre 150 in tutta Italia allora quando io cercavo mi rivolgevo agli storici di professione io ho trovato un quadro su delle bonifiche che parlava delle paludi pontine punto e basta e ne parlava come un fenomeno di propaganda fatto al fascismo solo per propaganda con un utilizzo di e quel fenomeno di immigrazione di massa veniva Tukur definito come deportazioni questo era il quadro da cui io sono partito poi mi sono messo a cercarle in macchina con mia moglie per tutta Italia e ne abbiamo trovate oltre 150 e sono sicuramente altre di più ce ne stanno altri nuclei di fondazione che non ho censito e che non abbiamo visto abbiamo scoperto che le bonifiche non furono fatte solamente lì ma furono fatte insomma ci stanno i veneti a Licola a Portici a Licola l'opera combattenti porta i veneti sono stati fatti nel Volturno in Puglia in Sicilia in Sicilia 500.000 ettari di terra nel primo anno di guerra 39-40 sono già in guerra e costruiscono 2000 case coloniche quasi le stesse ci sono già in Agropontino insomma un fenomeno che è leggermente diverso da quello che ci raccontavano gli storici e poi c'è l'altro dato di fondo questi danno la terra ai contadini erano fascisti e non si discute era una dittatura e non si discute hanno fatto le leggi razziali e non si discute hanno fatto le guerre e non si discute le guerre d'aggressione di potenza di violenza però hanno dato la terra ai contadini e questo in Europa è successo solo in Unione Sovietica e nell'Italia fascista non è successo mai neanche nelle socialdemocrazie di Olaf Palme e non succederà neanche nelle bonifiche e fondazioni in Spagna di Edafranchista perché là fanno i villaggi ma le terre restano dei padroni restano degli agrari e questi danno la terra ai contadini questo è un dato di fatto al quale c'è poco da discutere ma tutto questo lavoro professore gli storici non l'hanno fatto e quando io mi sono scritto i miei saggi prima su Limes e poi su Fascio e Martello viaggio per la città del Duce gli storici di professione spesso hanno storto il naso dicendo ma questo dai giudizi dice che era giusto questo ma chi è ma non si fa così la storia e falla tu allora no perché non l'hai fatta se era il mestiere tuo io mi sono messo con gli strumenti miei a far quello a far quello quello di cui ero capace allora rispetto alle fonti orali per esempio Giuseppe la storia non si fa solo con gli archivi perché io invece spesso a me mi tocca litigare spesso con gli storici a partire da quelli proprio della paleontologia cioè dall'uomo di Neandertal eccetera gli storici contemporanei e moderni ritengono che l'archivio il pezzo di carta sta in un archivio e si fa solo con quello no ci stanno altri strumenti e altre cose perché spesso anche il pezzo di carta può mentire specialmente quando si dice sono spariti gli archivi il vuoto archivistico del fascismo il vuoto archivistico può essere che si sono andati persi con la guerra ma può anche essere che nessuno si sia messi a cercarle quelle carte perché poi così funziona ma tante carte vanno perse perché nessuno è andato a cercarle allora arrivano muore mio papà i figli nonno butta via tutta la cartaccia c'è che nonno aspetta però quando tu parli delle carte dei sindacati è vero ma io vi chiedo andate a vedere a oggi di quanti di quanti consigli di fabbrica degli anni 70 tu puoi fare la storia archivistica o di quanti sindacati sono andati persi tu a Roma c'avevi la Breda la Fatme prova a farla la storia della Fatme prova a farla la storia della Fulgorcavi non c'è più un consiglio di fabbrica sono tutte carte che sono andate perse a chi toccava farlo i coloni dell'agropontino io sono andato a sbattere la testa un sacco di volte a Latina in provincia registriamo facciamo le interviste quanto costa e fallo tu fino a un certo punto non so se quindi avrà tanti limiti questo lavoro sicuramente ce li ha anche perché in certi punti dice cose diverse da quelle che dico io quindi che direi allora figurati se non ce li ha però suppliccia un vuoto che non c'era diventa comunque uno strumento per fare storia in più c'è l'altra cosa io diciamo che come percorso di studio vengo dalla storia antica dalla storia romana il mio professore Mario Mazza diceva la storia romana diceva che forse è più facile capire come funzionava il catastro nell'età di Traiano che nell'età attuale perché sì sì perché troppe informazioni corrispondono a nessuna informazione c'è troppa non può lì ce ne abbiamo poche e su quelle poche lavoriamo allora su questo fenomeno non si è studiato c'è stato quasi sicuramente anche un pregiudizio che abbiamo che abbiamo costruito e non si è fatto ma c'è il pregiudizio c'è l'incuria c'è un sacco di roba che si è brutta a Latina nel 1982 per il cinquantesimo anniversario della fondazione della città fu commissionata una richiesta a Riccardo Mariani è una mostra a cui partecipo Giordano Bruno Giorgi poi una delle ricerche di Mariani non venne pubblicata perché dice parla male della Latina e la mostra invece era stupenda prima dei materiali avevano detto ne faremo un museo là a Catastare hanno buttato tutto se perde ma ci sono la gran parte dei comuni italiani non hanno un archivio storico il comune di Latina non ha l'archivio storico che quasi sicuro questo è è certo è uno strumento aspetti professore non si fa solo con gli archivi si fa con tutto mettendo con tutto quello che trovi con tutto quello che hai a disposizione allora queste sono le interviste che ci stanno allora per esempio io a Tresigallo ci avevo fatto solo un reportage le interviste che avevo fatto io le cose dicevano che le dissonanze c'erano ma questo è riportato anche qua anche in questo libro dei muroni c'è un'intervista che dà conto di questo cioè c'era ancora un sacco di gente incazzata contro contro Rossoni quando ci andai mi dicevano no no si diceva che lui non fosse più venuto dopo la guerra perché c'erano ancora odi rivalità c'era chi diceva che lui si era arricchito quasi sicuramente puro insomma il problema storico che a me si pone maggiormente su Tresigallo è capire da dove arrivavano i soldi perché per costruire per espropriare le terre e per costruire i soldi da dove sono arrivati come sono arrivati questo ancora non mi è chiaro rispetto all'aspetto della città beh sì nasce così uno che vuole fare la città al paese suo e la disegna con gli strumenti che ha e secondo me non ci sono né pagano né libera questi pagano non sapevano manco chi era secondo me l'unica cosa che ci poteva essere era quello che aveva visto a Roma e soprattutto aveva visto nel Pontino allora e però Giorgio è bella che una città è bella quando ti crea sentimento quando ti da allora se tu vai in quella piazza di Tresigallo con quei porti c'è Place de Vosges a Parigi non è niente in confronto in confronto a allora io a Place de Vosges dico cazzo mi pare Tresigallo e però c'è questo ha una e Tresigallo comunque ha alcune specificità rispetto a tutte le altre fondazioni di età fascista sia quelle rurali strettamente rurali dell'Acropontino sia quelle del cosiddetto dell'autarchia perché normalmente quelle dell'autarchia che sono minerarie o strettamente legate all'industria sono tutte strettamente dipendenti dall'azienda cioè chi comanda poi in città è l'azienda è la miniera o la miniera viscosa o a farigna il tabacchificio eccetera in quelle rurali è l'opera nazionale combattente già a Pontinia però che inaugura poi lui è prevista comunque la zona per le indurte nel piano regolatore ma lì a Tresigallo invece c'è questa differenza che non c'è un'unica azienda che comanda lì chi comanda è lui ma a parte è simbolizzato con quel mausoleo ma poi c'è questo la zona industriale non è la zonizzazione che avrebbe fatto un architetto razionalista che stampa le corbusierie ma è proprio il contrario cioè c'è la cittadina e intorno c'è una cintura di fabbriche questo e che è questo che è destinato ad essere quella una cittadella e quindi non ce n'è una sola che comanda io credo di aver tutto sommato detto quello che dovevo dire Bonetti e Fil io credo che l'elemento centrale però sulla sconfitta di Rossoni all'interno del fascismo diciamoci che era storicamente determinata però non poteva che perdere perché il disegno era troppo che non teneva conto dei rapporti di forza reale perché non c'era solo il discorso della corporazione del sindacato dall'alto ma lì c'erano le questioni le mine che innescava dal basso perché lui ancora nel 23 già nel 23 per lui il corporativismo integrale significava il controllo il comitato di gestione significava quella che noi oggi qualche anno fa chiamavamo cogestione insomma e significava anche il passaggio alla parte diciamo istituzionale cioè la rappresentanza corporativa che viene bloccata e la cogestione e questo era nei fatti nei fatti era improponibile perché poi lì c'era comunque il patto stabilito da Mussolini fatto da Mussolini con il grande capitale con il capitale industriale anche se va detto che però anche lì però ci sono fenomeni che partono lì e che arriveranno fino agli anni 70 perché il problema della come si dice la delocalizzazione verso il sud l'industrializzazione del sud parte anche in quella fase non dimentichiamoci che quando si fanno le bonifiche in azione della mezza terme immediatamente si fa lo zuccarificio per la trasformazione e le industrie anche per la produzione dei concini lo stesso pomigliano d'arco l'alfa romero pomigliano d'arco ci arriva e ne da fascista vanno a fare i motori d'aereo e quindi c'è un discorso complessivo che poi e però e queste cose gli storici di professione se le avevano ascoltate e no non ce stanno fino a me l'avevo detto neanche in non ce stanno me li so guardati tutti da milioni in poi tutti quanti bene grazie dolci si infondo la do la parola a Fulco 15 ecco dimenticate quello che avete finora ascoltato cioè parire gli storici che l'hanno affrontato con la loro personalità io vorrei parlare brevemente di questo libro dal punto di vista dell'averlo letto e del personaggio che viene evocato questo di cui avete tratteggiato però poco secondo me la personalità un fesso ricordo questa immediata definizione in un giorno di anni piuttosto lontani 47 48 erano ancora amici di mio padre qui a Roma che si riunivano parlavano discutevano io avevo 16-17 anni e mi interessava molto quello che dicevano quindi è uscito il diario di Ciano di Voltaire in regione straniera quindi si parlava di tutti questi personaggi del fascismo con i quali erano stati o sodali o nemici o avversari e a un certo punto forse arrivò un caffè ci fu un attimo di silenzio e uno disse ero solo ero solo ci fu un attimo di silenzio e qualcuno disse un fesso cioè un immediato giudizio voglio dire c'era della persona non c'era delle persone qualsiasi e c'erano per esempio tra l'altro c'era un scusa più vicino c'era Carlo Belli che a quel momento stava dirigendo il Tempo che fece tanti lavori come sapete sul sud Italia insomma c'erano studiosi non chiacchieroni e mi è rimasto questa sferzata che finì lì nessuno contraddisse nessuno aggiunse altri insulti o lodi poi arriva a casa mia quel signore lì quel giovincello e mi porta questo libro e ho avuto non so se l'avevi percepito o prima o poi un po' di repulsione perché questo nome Resigallo Rossoni non era un nome molto amato e d'altra parte voglio dire questo qui poi c'è una illustre ferrarese che può contraddirmi se sbaglio io vado da vabbè lasciamolo quando ero bambino ma poi da ragazzo fino adesso che sono i miei anni vado spessissimo a Ferrari non so in questi 60 anni passati o anzi 70 cominciando a parlare dei primi giri fatti a 10 anni e a 15 anni e non so quante se mai qualcuno non dico mi abbia portato ma anche recentemente mi abbia mai accennato a Tresigallo cioè io sono stato fatto in giro per tutta la perché tutta Ferrara ma per tutta la provincia di Ferrara perché degli amici uno è presente ma anche altri mi hanno organizzato degli incontri dei dibattiti nelle cittadine del ferrarese e dintorni e io mi ricordo che una volta passando su una strada che andava verso verso il mare c'era una una freccia che ho scritto Tresigallo mi dicono che ci siamo stati ma lascia perdere mi disse chi mi accompagnava e in effetti non sono mai stato salvo quando mi ha portato il qui presente autore a Tresigallo cioè totalmente ignorata dalla città e dalla città al tempo del fascismo vabbè io ero ragazzino e seguivo più o meno però non mi ricordo di averla sentita nominare ma soprattutto dopo negli anni fino ad adesso lui mi ha portato ecco e e questo insomma quando ho avuto il libro in mano mi ha doppiamente interessato anche se io così per vari lavori che avevo fatto per la televisione e con De Felice anche sulla storia del fascismo il personaggio Rossoni non mi aveva non mi aveva mai interessato particolarmente a parte quella prima che lei che tu anzi hai accennato poco fa e quindi come posso dire la memoria è qualcosa che che vive in qualcosa che che partecipa alla vita di una di una comunità di una comunità grande vasta come quella emiliana romagnola del Ferraris e questo libro quando l'ho avuto tra le mani l'ho letto è stato come riempirmi un vuoto un vuoto non che abbia cambiato la mia opinione che evidentemente era stata ben pianzata in fondo al petto dalle parole che avevo sentito ma certamente è cambiata nel fatto di non sapere nulla di questo personaggio e questo te l'ho detto subito mi ha subito interessato anche se quando poi sono stato trovato a Tresigallo gentilmente ospitato e anche nutrito tuttavia non mi ha fatto l'emozione che io ho avuto quando ho visto altre città di fondazione sì mi sembrava che tutto fosse messo in ordine per avere questo bel viale che portava al cimitero con questo bel il triunfale monumento al defunto cioè mi sembrava un po' quello però ti sono grato di avermi portato e di avermi fatto conoscere detto questo voglio solo aggiungere che per questi motivi proprio perché avendo tanto letto sul periodo del fascismo sull'Italia le sue le sue città le sue costruzioni e averci tanto lavorato improvvisamente mi si è riempito questo vuoto e di questo ti sono molto grato e sono d'accordo con voi che avete giustamente notato che queste interviste forse andavano un pochino più sottolineate come nome cognome data età perché forse non solo a noi che lo leggiamo adesso ma qualcuno che legga il libro da qui a 50 anni forse delle notizie qualche data e qualche dato in più potevano essere fai sempre a tempo aggiunto nella seconda nella terza edizione se qui c'è l'editore bisogna dirglielo quindi rallegramenti a te come autore e grazie a voi che mi avete così aperto un po' di più aperto da ex novo le idee e il pensiero su questo personaggio rossone e sulla sua città grazie tanto buonasera a tutti grazie di essere qui è veramente un piacere un onore è un sogno un'emozione straordinaria perché ho goduto fino a questo momento nel sentire le riflessioni le considerazioni di autorevoli personaggi della cultura italiana nel mondo e mi sembra incredibile proprio qui nel tempo della cultura italiana alla Treccani parlare di rossone e tresigallo quando ho iniziato le ricerche era pressoché sconosciuto anche a Ferrara parlavo con gli architetti di Ferrara e ma si tresigallo quel paesucolo per andare al mare evitato perché poi ho considerato anche un'altra strada che per andare verso il mare io quello che posso dire sono molto contento che questo libro porti anche a certe considerazioni e riflessioni sono sempre d'accordo con Oscar Wilde che si parli bene o che si parli male l'importante è che se ne parli perché c'era proprio un vuoto un vuoto storico un vuoto architettonico un vuoto urbanistico e un vuoto culturale mettiamo già i punti su lei io non sono storico e non sono architetto faccio semplicemente l'attore cosa può centrare un misero attore io sono diplomato al centro sperimentale di cinematografia che è la scuola nazionale di cinema diretta da Giancarlo Gennini qual è il minimo comune denominatore tra la mia professione e questo libro che l'attore racconta storie e in questo libro ci sono un insieme di storie che convogliono verso la storia di Rossoni e Tresigallo e quando è che ho iniziato in un'età in cui non potevo sapere delle varie ideologie che avevano intaccato positivamente o negativamente quel periodo storico ho iniziato a 9-10 anni a fare le mie prime ricerche perché sentivo forse ero più sensibile dei miei amici sentivo che in quelle case in quelle cascine abbandonate in quell'archeologia industriale di cappannoni di industrie abbandonate sentivo che lì c'era stato qualcuno c'era stato qualcosa le famiglie avevano vissuto in quelle case erano nate erano morte avevano festeggiato i natali i compleanni io rimanevo sempre stupito andavo in campagna a Gerardi vicino a Tresigallo e chiedevo a mio nonno ma lì chi ci abitava e lì c'era la famiglia tal dei tali ma che fino ha fatto dopo la guerra è andata via è andata a Genova a Novara a Milano per lavorare bello ma lì chi ci abitava mi dicevano piano piano tutte le famiglie della contea del territorio fino ad arrivare a Tresigallo dove i miei nonni i miei parenti e i miei vecchi del paese mi dicevano vedi quella fabbrica lì prima non c'era lì c'era un campo di grano l'ha fatta Rossoni avevo dieci anni vedi quella piazza lì piazza della Repubblica all'epoca piazza della rivoluzione fascista bella sì sì molto bella avevo dieci anni e non c'era mica lì c'era un campo di canapa l'ha fatta Rossoni quindi immaginavo questo personaggio grosso rosso Rossoni che dall'alto metteva le casupole le fabbriche e poi io già dieci anni giravo la provincia facevo nuoto a Copparo mio padre lavorava a Ferrara i miei nonni erano di Iolanda di Savoia e io quando tornavo a Tresigallo vedevo che era diverso c'era un'architettura diversa c'era un pensiero un progetto diverso rispetto a tutta la provincia ferrarese a me Tresigallo piaceva l'architettura era bella io avevo dieci anni non potevo sapere che fosse architettura razionalista ideata fondata basata durante il fascismo era qualcosa per me di molto bello e quando sentivo raccontare queste testimonianze questi racconti forse nostalgici forse troppo emotivi ma sicuramente era la loro storia diciamo al 90% perché magari i ricordi sono sempre dolci e forse anche forvianti ma c'è una coerenza sulle oltre 20 testimonianze che ho raccolto c'era l'idea di un passaggio da una civiltà contadina nella zona in cui c'era il più alto tasso di disoccupazione in Italia ad una civiltà diciamo operaia questo cosa significa? che veramente i abbraccianti indebitati sono diventati operaie stipendiati veramente da contadini che abitavano nella cascina di proprietà del proprietario terriero hanno avuto da Rossoni una casa nuova in alcune famiglie anche gratuitamente hanno avuto un lavoro nuovo all'epoca avere un lavoro nuovo signori siamo negli anni 30 significava per il mio testimone che piangeva quando mi raccontava queste cose avere una casacca nuova all'epoca c'era un vestito tutto l'anno e se era sporco si girava e si utilizzava sempre quello significava avere una casacca nuova avere un teatro nuovo voi dovete venire a Tresigallo o potete vedere anche le foto cos'era prima era una via con 700 anime più qualche porcile qualche gallina e qualche coniglio non c'era nulla senza questa rifondazione sarebbe scomparso per sempre come molti altri paesi sono scomparsi nel dopoguerra avere un teatro nuovo e avere il cugino di Mascagni che viene a portare un'opera lirica con l'Inna Pagliughi la Pavarotti degli anni 30 e quei ragazzini che fino a un mese prima stavano con i genitori in campagna ad aiutarli nel taglio della canapa e quindi tornavano a casa con i piedi insanguinati perché la canapa taglia hanno potuto vedere opere liriche che andavano a New York Los Angeles Roma e poi passavano per Tresigallo una rivoluzione antropologica culturale economica lavorativa impressionante anche dal punto di vista del lessico tutti i miei testimoni hanno parlato in italiano io non ho tradotto il dialetto perché da 700 persone diventano 9000 in tre anni e quindi il barbiere o l'assistente barbiere Tresigallese che parlava in ferrarese perfetto ha dovuto alfabetizzarsi educarsi parlare l'italiano con l'imprenditore di Genova di Milano di Torino di Novare eccetera quindi c'è stata una vera e propria rivoluzione nelle esistenze di queste persone tutto bello quando mi raccontavano queste storie vicino al bar centrale in estate dicevo ma c'è un libro dove io posso trovare tutto questo e queste persone dicevo no no non c'è niente qualche saggio storico di 3-4 pagine ma più sul personaggio Rossoni cavolo ma scusate la domanda ma è quando voi non ci sarete più questa storia che fine fa? eh caro mio questa storia scomparirà per sempre mi era così tanto dispiaciuto che la storia dei miei nonni e della mia gente scomparisse per sempre che ho iniziato a raccogliere le testimonianze a 14 anni ho chiesto mio padre che è presente là dietro una telecamerina ho iniziato a bussare le porte a intervistarli prima con dei colloqui poi una volta che la memoria era riscaldata ci sono tornato li ho intervistati per delle ore con la telecamera ho trascritto tutti sui fogli sono ritornato da loro vuole aggiungere vuole togliere qualcosa e tutte queste testimonianze erano oltre 100 pagine ho dovuto tutte risistemarle con un ordine cronologico cioè prima di Rossoni come era la civiltà contadina il lavoro della canapa il lavoro in campagna il rapporto con il curato del paese con la banda musicale con la scuola elementare fino ad arrivare alla rifondazione di Rossoni quindi ho cercato di dare un ordine cronologico alla storia però sapevo che se volevo arrivare a 26 anni alla Treccani con questi signori dovevo diciamo così attuare una cornice macro sociale a quel contesto micro sociale una volta venuta a Roma a 19 anni per studiare al centro sperimentale sono subito andata all'archivio centrale dello Stato a fare ricerca non c'è niente perché Tresigallo è l'unica per adesso città di fondazione che non è stata voluta da una legge di Stato o dal fascismo non c'è stato un bando nazionale per gli architetti ma fu voluta interamente da una visione del mondo Rossoni mi sarebbe tanto piaciuto mettere la carta di Tresigallo ma non esiste potevamo farla nuova ma visto che con l'editore abbiamo deciso di mettere tutta roba dal 35 al 40 non l'abbiamo potuta mettere l'unico carteggio disponibile è all'archivio di Formignana perché Tresigallo era frazione di Formignana dal punto di vista architettonico urbanistico è meravigliosa stupenda venite a vederla in che senso? non è proprio un cimiteretto o un paesucolo è stata la più grande città di fondazione ma realizzata in Italia in termini di costruito forse dopo Carbonia è l'unica città di fondazione fra le oltre 150 riconosciuta città d'arte allora c'è qualche paradosso una piccola città di provincia che non ha nessun valore che è così riconosciuta dall'Emilia Romagna riconosciuta anche dall'Italia Enzo Nenci si è andata a Palazzo Te a Mantua a una mostra praticamente permanente non parliamo sicuramente di una città con i maggiori architetti dell'epoca non signore ma sta lì la sua valenza Rossoni voleva probabilmente fare un apprendistato questi giovani scultori giovani ingegneri giovani pittori per diciamo così educarli nella loro professione per tempi migliori tutte queste persone hanno avuto comunque un successo provinciale regionale nazionale o mondiale come ad esempio Porcinai grazie anche in minima parte a questi lavori in più la bellezza del paese se venite o dovete venire insomma questa è la cosa dovete venire a una chiusura cioè venite perché città d'arte è formato una chiusura prospettica cioè non c'è un viale in cui l'occhio non termini con una anche al cimitero c'è anche il cimitero con un edificio quindi l'insieme di queste chiusure prospettiche hanno creato questa complessità architettonico-urbanistica e quindi l'idea di una città chiusa qua sta il bello perché appena fai un passo al di là della cerniera industriale ti trovi immediatamente nella campagna quindi una armonizzazione perfetta tra la campagna e la città tutte queste cose sì possono essere legate anche al mio entusiasmo di 26enne però non ho messo una riga del mio cervello in questo libro proprio perché non ho le competenze storiche architettoniche proprio perché mio fratello è uno storico di professione quindi ho seguito a lettera le frasi che mi ha detto questa non metterla perché è un tuo parere quindi togli di qua togli di là l'abbiamo un po' smussata e quindi io credo personalmente di non aver messo una mia interpretazione storica ho fatto semplicemente un mosaico ho messo assieme dei tasselli le testimonianze i documenti pochi che ho trovato dall'archivio centrale di Formignana e di Ferrara e sui pochi articoli sul Corriere Padano di Ferrara e le poche riviste che parlano di questo esperimento e le ho messe assieme tassello per tassello come se fosse un grande mosaico e ho fatto molta fatica perché veramente non c'era nulla nulla e quando ho iniziato questo lavoro a 14 anni mi prendevano per pazzo tra cui mia madre diceva nemmeno il comune te lo stamperà perché a chi vuoi che interessi la storia di Rossone e Tresigallo poi e sto concludendo nel 2010 esce un libro che iniziava con la prefazione circa così diceva questo è il libro per cui sono nato fin da bambino sapevo che dovevo raccontare questa storia che è Canale Mussolini di Antonio Pennacchi il mio autore preferito e quando no 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 e quando l'ho letto io mi sono commosso perché ho detto cavolo allora c'è tra virgolette un altro matto come me che da bambino sapeva che doveva raccontare questa storia e quindi da lì ho detto ora scrivi in qualche modo a Pennacchi rompo le scatole un grande storico rompo le scatole un grande documentarista rompo le scatole all'istituto di storia contemporanea di Ferrara oggi c'è la presidenta Anna Maria Quarzi la Pendragon casa editrice nazionale ci ha creduto è patrocinato dall'istituto Parri quindi sicuramente ci saranno delle mancanze perché non è la mia professione però come attore sentivo che questa storia andava raccontata e io ho cercato in tutti i modi di raccontarla grazie ci sono già tanto voi in modo di presenti per la presidenza si sente? volevo dire questo si sente? volevo dire questo quello che emerge da tutto questo ovviamente è molto interessante però c'è un dato di fatto che è inoppugnabile sembra quasi che nei confronti di chi tutto questo ebbe a realizzare emerge una generale ingratitudine nel senso che se non l'ingratitudine allo stato puro addirittura la damnazio memoria che forse è anche peggio insomma volevo citare il caso vicevezza di uno dei grandi artefici del tempo che è stato Araldo di Crollalanza voi forse sapete chi è stato era ministro dei lavori pubblici e è stato l'artefice della della nuova Bari Bari era una città totalmente antica senza nulla di interessante salvo gli edifici storici la Bari che noi oggi vediamo è una città moderna con uno splendido lungomare con la fiera del Levante lo stadio della Vittoria una serie di edifici meravigliosi che si affacciano sull'Adriatico tutto questo è stato frutto di questo uomo è stato colui che ha dato il là si è impegnato in termini concreti e costruttivi affinché tutto questo fosse realizzato è mantenuto Bari non si è dimenticato non si è dimenticata di Crollalanza non si è dimenticata perché un tratto di quello splendido lungomare è intitolato ad Araldo di Crollalanza c'è un suo busto e viene ricordato continuamente in termini elogiativi di modo che quello che lui ha fatto le pietre parlano per lui come si disse ma sono pietre che parlano al cuore della gente e la gratitudine di chi lo ha conosciuto e di chi è in grado di apprezzare quello che ha lasciato è palese viva e costruttiva mi auguro che anche per Rossoni tutto questo avvenga così come potrebbe avvenire anche per tanti altri si deve avere il coraggio morale di riconoscere la grandezza di questi uomini pronto si sente io sono un tresigallese acquisito io vengo dalla provincia di Reggio Emilia e anni fa ho lavorato in un'azienda creata a tresigallo dal comendatore Adolfo Orsi Adolfo Orsi il creatore della Maserati un uomo che ha creato più di duemila posti di lavoro e che nella sua città Modena non è riconosciuto per niente parleremo di questo un'altra volta tresigallo invece ha riconosciuto al suo nome una via quindi bravo il comune di tresigallo io tra lui ha parlato di sciocchezze forse ne ho fatto anch'io ho creato a tresigallo un'associazione culturale Edmondo Rossoni sviluppo e benessere grazie allora quello che io volevo dire era citare alcune parole di Rossoni non dire niente di mio o di altre cose tra l'altro le parole di un inno al lavoro con musica di Mascagni che nessuno suona questa frase maestro esalta esalta nella scuola il popolo italiano e la sua storia di che il lavoro è luce è vita è gloria arma e bandiera della libertà parole di Rossoni un concetto una definizione di lavoro fatta da Rossoni che io ve la dico perché secondo me merita di essere la concatenazione gerarchica delle competenze e l'accentuazione degli sforzi per la creazione di maggiori capacità io non lo so se quando si va a scuola da bambini e qui impara questo e quello perché siamo nati per vivere sì e per lavorare ho la sensazione che concatenazione gerarchica delle competenze e l'accentuazione degli sforzi per la creazione di maggiori capacità mi sono sentito di leggerlo perché intorno a me vedo tanta incompetenza tante così è una sensazione se permettete quello un acrostico scritto nel 39 a Tresigallo da un parroco allora sorge Tresigallo la nuova vita opera eccelsa di Rossoni ed mondo salvezza e onor di nostra terra a vita signore insigne ed orator facondo or del suo cuore la virtù squisita nessuno ignora e l'animo giocondo in lui è forza al bene operar ardita esempio di sentir alto e profondo di questa nostra Italia vittoriosa illustre ministro Savio dell'agricoltura oggi brilla qual stella luminosa nel scusate è scritto talmente piccolo nel nel nostro suolo e nostra gloria e vanto di tanto nome nell'età futura il finale ogni pietra sarà memoria e canto aveva previsto qualcosa grazie io vi ringrazio molti ringrazio stessa la straordinaria professora parlata sì che finalmente avete lavorato perché il lavoro il sogno di papà venga riconosciuto lui del resto non aveva scritto come mi ha chiesto spesso il professor parlato un libro potrebbe farlo tranquillamente perché quando eravamo a Roma scriveva faceva appunti seguiva tutta la politica e anzi lo contattavano anche devo dire sindacati di sinistra però purtroppo in Italia è stato dimenticato si è voluto dimenticare una parte di storia è sbagliata oltretutto si fa un mito in questo modo quindi chi ha voluto cancellarla sicuramente sono state fatte cose sbagliate e cose giuste però bisogna riconoscerle entrambe purtroppo fino adesso mi sembra che le cose stanno cambiando ma purtroppo fino a pochi anni fa addirittura si insegnava ai giovani a lottare contro l'altra parte politica non è bello l'avversario non è un nemico è un avversario politico e quindi questo mi fa molto piacere forse è arrivato il tempo di poter parlare con serenità di un più grande periodo storico non volevo parlare perché non volevo portare via ai protagonisti di questa giornata nella maniera più assoluta che sono papà e Stefano e grazie a tutti voi spero di rincontrarvi presto riusciremo col professor parlato a trovare forse altri altre cose per poter scrivere su papà grazie ancora carissima Rossoni dai ragione ma il rispetto dell'altro di qualunque altro è una conquista della civilizzazione e quindi a tempi lunghissimi non è una conquista facile non è tutto questo sta alla fine della storia forse non è semplice ma c'era già pure prima però questa mancanza di rispetto dall'altro insomma quelli si erano imposti con la violenza avevano preso il potere e quindi è stata c'era una parte del paese che è lungo il cammino verso il rispetto di tutti verso il rispetto di ognuno di noi se non ci sono altri che desiderano intervenire chiuderemmo qui la giornata sì però devi essere all'altezza dello spettacolo di prima no no in realtà mi ripeto per me volevo ringraziare di nuovo siamo in conclusione quindi la Treccani il suo direttore tutti gli organizzatori lo staff che hanno reso possibile tutto questo grazie di cuore all'architetto muratore al dottor Romanelli e soprattutto mi passino il gergo tecnico i miei tre moschettieri nel senso che è stato per me un sogno realizzato che il mio autore preferito Pennacchi un grande storico come parlato e un grandissimo documentarista uomo di cultura come Polco Quillici abbiano voluto contribuire a questa opera e non solo che siano qui oggi mi avete commosso e grazie grazie veramente di cuore e seconda cosa sono tre ma sto finendo seconda cosa i libri sono là fuori per chiunque si è interessato e fra un paio di cena se vogliamo agregarci io sono un attore squattrinato ma il dolce posso offrirlo ultima cosa vorrei personalmente dedicare questa giornata ad un mio caro amico che ha studiato molto Rossoni e Tresigallo che oggi non può essere qui ma sicuramente so che c'è stato che è Amos Castaldini e questo ci tenevo grazie di cuore e in bocca al lupo a tutti